E poi? Termoso. Ma termoso non serve a... Ma non è una casa? Ma no! Borsa le piazze. Ok, va bene, va. Però dobbiamo fare anche... Monitorare la funzionalità cardiocircolatoria, rilevare la temperatura qualsuora, rilevare la Poi, non è una finalità, non? Ma poi non è una finalità. Non è una finalità? Sì, non è una finalità. Adesso ti dico che cosa? Tu 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 tu... Aaaaaaaaaaah! Devo fare una cosa, devo fare una cosa! Devo fare una cosa! Ah, così!